Ciao a tutti, io sono Silkeratti, questa è una battaglia online remontata all'Uor, battaglia come tutta fra me che comando i Germani e il mio versario che comanda i Romani. Vediamo come è composto il mio giacito, davanti ho due unità di banda di arcieri scelti, dietro ho tre unità di guerrieri con lancia, quattro unità di berserker, la guardia del generale e sul mio lato sinistro quattro unità di cavalieri gotti. L'esercito avversario invece è composto da quattro unità di arcieri ausiliari, diverse unità di corte cittadine, fanteria pesante e molte unità di cavalieria pesante, la maggior parte delle quali è composta di pretoriani a cavallo. Torniamo sul primo esercito e facciamo partire lo scontro. Io ovviamente ho basato il mio esercito sui berserker, infatti ho scelto ben quattro unità che mi sono acquistate un occhio della testa, però non potevo fare altrimenti. In ogni caso mi avvicino molto velocemente al nemico, in quanto lui ha più orcieri di me, quindi devo diminuire la distanza il più velocemente possibile. Cerco di attaccare sul lato il mio avversario, però lui allontana la sua cavalleria e fa avvicinare molto velocemente la sua corte cittadina. Io formo le falangi e cerco di difendermi, inoltre non ci penso due volte e faccio attaccare i miei berserker, che contro la fanteria romana sono ottimi. Il mio avversario nel frattempo sposta tutta la sua male di cavalleria sul mio lato destro, cercando probabilmente una manovra da giramento. In ogni caso io porto tutti i miei cavalleri gotti all'attacco per mandare in fuga molto velocemente la fanteria avversaria. E proprio quando ho vinto lo scontro fra le fanterie il mio avversario mi attacco con la cavalleria. Però ormai la battaglia ha preso una piega inevitabile, in quanto i miei berserker stanno attaccando bene i romani. Il panico si sta diffondendo molto velocemente fra il nemico. Io mando tutta la mia cavalleria alla carica in modo da non fermare questo terrore che si sta diffondendo fra il nemico. E così facilmente la battaglia ormai è vinta. Rimangono solo gli arcieri a disturbarmi un po'. Il signore della guerra nemico è morto, ucciso dai tuoi coraggiosi guerrieri. Però c'è ben poco da fare. Sicuramente è stata una battaglia veloce ma non equilibrata in quanto io ho usato molti berserker che sono un'unità forse sleale in rame. In ogni caso il mio avversario mi avrebbe potuto far grammare con le sue unità di cavalleria. In ogni caso per ora questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e la prossima. Salve a tutti io sono Sicurati, questa è una battaglia online Roma Total War, battaglia come tutta fra me che comando i tedeschi e... Sì vabbè i tedeschi. Salve a tutti io sono... Salve a tutti io sono Sicurati, ovviamente il mio esercito è composto nella sua maggior parte dai berserker e sì vabbè, ciao mamma. Salve a tutti io sono Sicurati, ovviamente il mio esercito è composto nella sua maggior parte dai berserker e così vabbè.